Musica A tutti buonasera, buonasera dal TG Prato, tranquillità, sicurezza, lavoro, ecco gli auguri del sindaco Matteo Biffoni alla città. 2015, che cosa augura ai pratesi? Ma io auguro un 2015 tranquillo e pieno di lavoro, sono questi i due temi su cui io penso che un'amministrazione comunale come la nostra debba impegnarsi ancora di più di quello che è stato fatto nel 2014, sicurezza e tranquillità nelle nostre strade e dall'altro lato aiutare tutti coloro che imprendono in questa città, che creano posti di lavoro, che hanno voglia di scommettere sul futuro di Prato. Io penso che sia questo davvero il lavoro che faremo, nel frattempo auguro davvero un grande fine dell'anno e un buon inizio e un 2015 che sia pieno di risultati e di grandi soddisfazioni per la nostra meravigliosa città. I botti di Capodanno se ne parla tanto in questi giorni e intanto sono stati vietati nell'area pratese solo a Vaiano e a Vernio, mentre il sindaco di Prato ha preferito appellarsi al buon senso, anzi ha detto all'intelligenza dei suoi cittadini. Botti sì, botti no. La notte di Capodanno mette zizzania, perché se da una parte c'è chi proprio non ne vuol sapere di rinunciare all'usanza di scoppiare petardi, fuochi d'artificio e razzi, dall'altra c'è chi invece ricorda che si tratta di una tradizione che mette in pericolo l'incolumità dell'uomo e degli animali, questi ultimi vittime, quando non succede di peggio, di traumi difficili da superare. Sindaci dell'area pratese divisi solo a Vaiano e a Vernio sono state emesse ordinanze sindacali che vietano ogni tipo di botto, ordinanze che intendono garantire sicurezza e quiete pubblica, che puntano a tutelare persone e animali e che mirano anche alla salvaguardia del patrimonio pubblico e privato. Sanzioni salate per chi a Vaiano e a Vernio non rispetterà la decisione del comune, botti liberi invece nell'altro comune della Val di Bisenzio, Cantagallo, così come a Montemurlo, appoggio a Caiano, Carmignano e a Prato. Qui il sindaco Matteo Biffoni ha preferito fare appello al buon senso dei cittadini. È giusto festeggiare l'ultimo dell'anno, festeggiare la fine e il capodanno in maniera anche importante, ma nel rispetto di tutti. Le ordinanze si fanno quando servono, quando è veramente qualcosa di importante, perché non si può nemmeno esagerare, a mio modo di vedere, perché soprattutto in casi come questo, in una città grande come questo, è bene che siano, credo che sia giusto, e le persone stesse si rendano conto che è giusto divertirsi, ma nel rispetto di tutti. E io dei miei concittadini mi fido perché so che sono persone intelligenti e so che sono persone che vogliono bene la propria città. Intanto il giornale online Notizie di Prato ha già da qualche giorno lanciato un sondaggio sui botti. Prato, San Silvestro, con i botti o no? Per dire la propria, c'è tempo fino a mezzanotte. Al momento la stragrande maggioranza dei lettori, oltre il 70%, ha votato per il divieto, mentre il resto si è diviso tra maggiori controlli e botti senza limitazioni. E il 2014 si è chiuso con la neve, con il gelo, imbiancata la città, ma è durato soltanto lo spazio di pochissimo tempo, di qualche ora non di più. Ad un certo punto qualcuno ha anche temuto il peggio, invece tutto si è risolto nel migliore dei modi. Montepiano, imbiancata da 30 cm di neve. L'ultimo giorno del 2014 è stato all'insegna della neve e del freddo, anche se per fortuna nel corso della giornata la situazione meteo è andata migliorando e non si registrano particolari problemi di viabilità. Intorno alle 11.30 di questa mattina i fiocchi hanno cominciato a cadere anche in pianura. Una nevicata piuttosto abbondante, anche se la neve si è subito sciolta. Discorso diverso invece in collina e in montagna. Sia nella Val di Bisenzio sia sul Monte Albano si è depositato un manto bianco che a Montepiano ha raggiunto i 30 cm sommandosi a quello caduto nei giorni scorsi. Molto basse, come previsto, le temperature. La protezione civile raccomanda per questo la massima attenzione sulle strade è l'obbligo di transitare con catene a bordo o gomme termiche. Anche se nel pomeriggio si è registrato un rialzo delle temperature e un graduale miglioramento, i mezzi spalaneve della provincia e della protezione civile sono comunque in allerta, mentre per evitare il rischio ghiaccio invallata si è già provveduto in mattinata a spargere sale lungo le arterie principali. Anche il sistema di protezione civile del Comune di Prato ha provveduto nel corso della mattina ad effettuare verifiche sulle eventuali possibili situazioni di disagio. Per domani lo stato di allerta regionale prevede codice di colore verde, vale a dire nessuna criticità, ma il sistema di protezione civile cittadino resterà in situazione di attenzione. Verrà anche valutata la possibilità di intervenire con operazioni di salatura viaria di alcuni tratti di viabilità, soprattutto nelle aree pedicollinarie a maggior quota se la temperatura si dovesse abbassare sotto lo zero. Ancora un grave incidente in via Firenze, ancora una volta è stato un pedone ad avere la peggio. L'uomo, un italiano di 40 anni, è stato investito dallo scooter condotto da un 44 anni, anche lui italiano. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 portati in ospedale. Il pedone presentava una brutta ferita alla testa e perdeva molto sangue, è sempre rimasto però cosciente. È stato soccorso in codice rosso, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. Meno gravi invece le lesioni riportate dallo scooterista che è caduto a terra. Per lui il codice di soccorso è stato verde. La Polizia Municipale sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro che è avvenuto all'altezza dell'abitato della Macine. Da chiarire se il pedone stesse oppure no attraversando sulle strisce quando è successo l'incidente sulla zona nevicava. Ancora la cronaca ha offerto 500 euro ai poliziotti della volante che lo hanno fermato questa notte per un controllo in via attraverso il crocifisso nel Macrolotto 1. Con quei soldi l'uomo, un cinese di 45 anni regolare in Italia, voleva che gli agenti chiudessero un occhio sul fatto che l'avevano appena sorpreso alla guida di una potente auto nonostante sprovvisto di patente. Così facendo però l'uomo ha solo aggravato la sua posizione. Alla fine del controllo infatti è stato denunciato sia per guida senza aver mai conseguito la patente sia per l'istigazione alla corruzione oltre al fermo amministrativo dell'auto. I soldi invece sono stati posti sotto sequestro. Connessioni veloci in tutte le scuole di Prato, sentite come e perché, Eleonora Barbieri. Le scuole di Prato saranno sempre più digital grazie ad un progetto del comune che nel 2015 cablerà l'intera rete scolastica cittadina. Ogni scuola avrà quindi a disposizione 100 megabit, ossia una connessione veloce per sfruttare al massimo tutti gli strumenti didattici digitali che la scuola ha a disposizione. Abbiamo buttato giù un progetto insieme a tutti i dirigenti scolastici del comune di Prato per portare la connessione a 100 megabit, cioè una connessione molto forte in tutte le scuole e per cablare tutte le aule delle nostre scuole. Questo è un obiettivo che ci siamo dati perché consideriamo la connettività un'infrastruttura indispensabile per lo sviluppo